Confermata la misura della custodia cautelare in carcere per Claudio Pedrotti, il rappresentante di commercio di 53 anni, residente a Chiesa in Valmalenco, che mercoledì scorso ha pugnalato la moglie, Barbara Zanella, di 50 anni, riducendola in fin di vita. Oggi all'interrogatorio di convalida davanti al GIP di Sondrio, Fabio Giorgi, il 53enne non era presente. L'uomo è stato ricoverato in ospedale sia per il suo stato fisico, le ferite riportate durante l'aggressione, sia per le precarie condizioni psicologiche. A rappresentarlo l'avvocato di Morbegno, Vittorio Spini, che ha confermato la necessità di cure da parte del suo assistito, mentre il pubblico ministero, che ha formulato nei confronti di Pedrotti le accuse di tentato omicidio e strage, ha chiesto la conferma della custodia cautelare in carcere. Il 53enne, ha precisato Giorgi, verrà interrogato quando lascerà l'ospedale. Non è infine escluso che l'uomo possa essere direttamente trasferito in un carcere fuori provincia. Intanto ha finalmente ripreso conoscenza Barbara Zanella, ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Niguarda di Milano. La donna sta meglio, anche se, vista la gravità delle lesioni riportate, è ancora prematuro sciogliere la prognosi, che resta riservata.